scusa sono svenuto, adesso per colpa tu rischiamo di prendere in ritardo l'aereo cosa fa? la fila? ma scusa facciamo passare avanti? ma assolutamente no, noi italiani ci dobbiamo sempre far riconoscere c'è la fila? si fa la fila, ma io dicevo per il scopinato carruziella, non dobbiamo aspettare subito malore per andare avanti aspettiamo la fila e basta, bravo, fossero tutti come lei, coscienza civile, semplice coscienza civile è un po' di toccazione, ma insisto, e basta non toccarci la fila bella, e la carruzzella, la carruzzella ha fatto due palle comunque se insiste, andiamo, scusi la coscienza civile dove la mettiamo?